Schizzano i contagi in Campania. Nella giornata di ieri sono stati registrati 395 casi su 5.064 tamponi, numeri preoccupanti che pongono la Campania al primo posto tra le regioni più colpite dall'epidemia. I sindaci della provincia di Napoli si sono attivati per garantire sicurezza nonostante il bilancio negativo. Attore del Greco, il Centro Operativo Comunale, dopo il consueto aggiornamento serale con i responsabili sanitari dell'Ast Napoli 3 Sud e con l'unità di crisi regionale, ha accertato la positività da Covid-19 di altri tre cittadini, due dei quali in isolamento domiciliare, uno in regime ospedaliero. Cresce la paura anche nel comune di Ercolano, dove si contano 36 casi positivi. Il sindaco Buonaiuto si dice preoccupato per l'aumento dei contagi, anche perché nessuno può conoscere gli sviluppi del virus durante l'autunno. Sto facendo salti mortali, afferma il primo cittadino, per garantire la sicurezza di tutti. L'unico strumento che abbiamo a disposizione per tutelare la nostra salute e quella dei nostri cari è comportarsi con rigore e responsabilità. Intanto ad Ercolano è stata creata un'area chiamata Drive-Thru, in cui i cittadini potranno essere sottoposti al tampone senza scendere dall'auto, al fine di ridurre i tempi. Focolaio in una casa di riposo per anziani nel comune di Portici. Risultati positivi 41 ospiti e 16 dipendenti. Il sindaco Vincenzo Cuomo scrive sulla sua pagina Facebook. Uno degli ospiti è stato ricoverato in ospedale a Bosco Tre Case, con sintomi non gravi, mentre gli altri sono stati posti in isolamento all'interno della casa di riposo, sotto la sorveglianza sanitaria dell'AS Napoli 3 Sud. Nella giornata di ieri, altri 5 cittadini di Castellammare di Stabbia sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi anche due bambini, di 2 e 7 anni, e la loro madre, 41enne, a cui si aggiungono due coniugi di 79 e 75 anni. Infine il sindaco Cimmino augura, attraverso un messaggio sui social, una pronta guarigione a tutti i cittadini colpiti dal virus. Restiamo uniti e rimaniamo insieme per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo.